Il mio personaggio, come lo racconterei, sinteticamente come un uomo rarefatto, diciamo, uno che vive una realtà sopra il ground, cioè sopra la terra, diciamo, più in alto del suolo, che guarda le stelle e quindi vive una realtà parallela in un certo senso, come tutti i borderline, le persone, diciamo, squilibrate, ma dico l'aggettivo squilibrato in senso positivo, che non accetta lo schema, che comunque individua, avendo individuato dei malesseri sociali, li elabora in una sorta di follia. Ed è un personaggio molto dolce, molto tenero, anche con un suo swing, se posso dire, diciamo, nell'esposizione, nell'esporsi con questa cadenza e con questa osservazione dello spazio che lo rende un po' più largo, più non costretto, diciamo, dallo schematismo esistenziale. È come, diciamo, la vecchia storia di guardare le cose da un altro punto di vista, cioè avere quella capacità che a volte è cosciente, a volte invece inconsapevole, di spostarsi un po' dal punto di vista consueto e di guardare le cose in un modo completamente personale. Rocco, il tuo personaggio è completamente diverso da quello interpretato da Sergio Rubini, Tonino, un ladro in fuga e non sveliamo più di tanto, però come si agganciano questi due personaggi? Nasce un rapporto, un legame molto forte tra loro, qual è il loro punto di incontro, secondo te? Beh, diciamo, loro si incontrano a metà strada, come tutte le storie che si rispettano, no? Nelle storie di incontri, incroci e contaminazioni reciproche. Uno è molto infognato, diciamo, quindi vive nei bassi fonti, l'altro vive su questa terrazza in alto senza un contatto con il fango e quindi si incrociano influenzandosi e anche, come posso dire, diciamo, c'è questo verbo nel mio dialetto, sponzare, che è il pane che si inzuppa, diciamo, c'è anche tutto un vecchio apologo del mio film su questa questione, cioè quando ci si impregna un po' e quindi si conservano un po' le proprie caratteristiche e si assumono quelle dell'altro e non si quasi più distingue poi, no? Dove finisce un elemento e dove comincia l'altro. E noi questo facciamo nel film i nostri personaggi, ma se posso aggiungere non solo i nostri personaggi, anche noi due, io e Sergio, diciamo, la nostra è una storia di due, diciamo, artisti con una provenienza molto simile e con percorsi completamente diversi, quindi è stato anche un bell'incontro proprio umano, prima ancora che professionale, direi un incontro spirituale, diciamo, no? Di incrociare delle similitudini e incastrarsi nelle diversità. È stato veramente un bellissimo viaggio, immersi in questa Taranto, che forse è la città più contraddittoria d'Italia in questo momento, no? A proposito dello spirito che legge nella città, che è uno spirito molto contrastato tra questa tragedia dell'inquinamento e anche però uno spirito, una vitalità, una simpatia. Quindi è stato un bellissimo viaggio, insomma, senza, diciamo, sempre col vento in poppa, nonostante quello che è successo.